Un vero e proprio sfratto per la piccola flotta di navi da pesca che da secoli soggiorna nella darsena del rione Terra e che dovrà trasferirsi sul molo caligoliano cedendo il posto a 48 grandi pescherecci delle cooperative di Torre del Greco. Questo è quanto previsto dal nuovo piano regolatore portuale al quale da tempo lavora l'assessorato ai trasporti e alla viabilità. Un progetto che sembra stravolgere l'intera tradizione di una comunità che ha fatto del mare e della pesca il suo punto di forza e che andrebbe a modificare l'intera geografia ed economia locale con il rischio di far perdere alla città la sua vera natura e la sua vocazione marinara. I pescatori con le loro imbarcazioni saranno infatti confinati nello spazio a cavallo tra il molo di Caligola e gli imbarchi dei traghetti che dovranno tra l'altro condividere con la flottiglia torrese. Sotto il rione terra padroneggeranno mini-hot mentre le boe di cemento per ormeggiare i piccoli natanti saranno stanziate sopra la ripa putiolana. Il nuovo piano regolatore sembra quindi essere in aperto contrasto con quella riqualificazione turistica che il piano approvato anni fa invece prevedeva. Originariamente infatti era previsto che nella darsena rimanessero i pescatori, sul molo caligoliano avrebbero presenziato i hot e navi da crociera e il porto commerciale sarebbe stato spostato verso i cantieri Maglietta in prossimità del tunnel tangenziale porto in via di realizzazione. Questa totale inversione di marcia ha quindi stravolto l'intera situazione, bloccato sul nascere anche il progetto appena bozzato di inserire pozzuoli sulla rotta crocieristica del tirreno, dato che con la nuova struttura prevista verrebbero impediti gli sbarchi di navi da crociera. L'amministrazione comunale putiolana ha espresso chiaramente il suo dissenso per questo programma, che sembra compromettere il progetto di portualità turistica colpendo quello che rappresenta da sempre il patrimonio della città. Non ci sarebbe da meravigliarsi quindi se, stando a quanto affermato da voci ufficiose, la Giunta si sia riunita per discutere un eventuale atto di deliberazione per opporsi e contestare il nuovo piano regolatore.